E' giunto alla seconda fermata il viaggio nelle terre dell'olio DOP Cartoceto. E' la volta di Monbaroccio quando il 21 luglio l'iniziativa conterranea farà visita ad uno dei tre comuni dell'areale dell'unica DOP Olearia delle Marche. Un percorso che mette assieme ristorazione, luoghi di interesse storico e paesaggistico, musica e riflessione, concerti, spettacoli e talk culturali. Dopo colli al Metauro e Monbaroccio il 29 luglio il tour Oleario si concluderà a Cartoceto. Olio DOP di Cartoceto qui siamo parte con altri comuni come Colli al Metauro e Fano nel percorso dell'areale. Un percorso importantissimo sulla valorizzazione dei territori e per il frutto che la terra dà ai nostri territori. Venerdì sera saremo a Palazzo del Monte nel contesto del giardino a proporre l'olio nelle sue degustazioni e all'interno dei percorsi di quella che sarà una cena accompagnata da musica e poesia. In un contesto particolare, naturalmente siamo all'interno dell'ottocentesimo anno del Beato Sante con l'evento che poi si porterà il sabato o la domenica e il venerdì anteporremo anche la scienza. Saremo dentro Guidovaldo del Monte, dentro i suoi giardini, quindi scienze e fede che si guardano in un contesto meraviglioso come quello di un borgo, di un comune se ben piccolo ma con grandi valori. Quindi Beato Sante, Monbaroccio, scienza, fede, tutto intorno a una tavola, tutto un prodotto come il DOP di Cartoceto che accomuna la poesia e la fede, la scienza e la religione. Insieme a tavola per confrontarci, parlarne davanti a bellissimi piatti di grande valore ma anche vini perché sarà anche il valore del vino con tutti i vini locali a partire dalle cantine di Lucarelli per scendere a quelle di Mariotti in un contesto meraviglioso come quello appunto del palazzo. Grazie.